In questo momento difficile, dove il contributo di ognuno di noi è fondamentale, l'Italia va avanti anche grazie alle aziende dei settori alimentari e pet food. Aziende indispensabili per il bene comune, a cui va il nostro grazie. IPVPAC è al loro fianco, oggi più che mai. Per garantire ai nostri clienti un servizio di eccellenza, abbiamo raddoppiato la capacità produttiva e i nostri tempi di consegna sono stati ridotti a 6 settimane. Tutto questo per andare incontro a chi è al centro dei nostri pensieri, il cliente. IPVPAC è innovazione e continua ricerca di nuovi materiali, come i packaging 100% riciclabili e di soluzioni di ultima generazione come il soft touch e i sacchi pinch bottom, doipeck e flat bottom. IPVPAC è la forza di un team in crescita, fatto di persone che danno sempre il massimo, anche in un momento così delicato. La nostra filosofia è avanti tutta, oggi più che mai. Credici con noi.